buongiorno amici nexus dabb sono alessandro bertola e vi presento la nostra videoprova di nova lancer 3 beta beta 1.0 aggiornata da qualche ora una piccola minor release successiva beta chiusa a cui è possibile richiedere l'accesso tramite la community di nova su google plus naturalmente nel nostro vecchio articolo vi spieghiamo un po come fare è molto semplice praticamente tutti vengono accettati come beta chiusa abbastanza aperta andiamo ora a scoprire cosa ci aspetta in questo nuovo nova l'abbiamo installato qua sul nostro nexus 5 andiamo a sbloccarlo allora vi ho da subito voglio mostrarvi come nova permetta praticamente una gestione stra pulita del lancer in questo momento io ho nascosto sia la barra sopra sia la dock sotto in modo da avere tutto il display pulito se vedete questa piccola icona del questo ingranaggio delle impostazioni si riferisce allo sfondo che è a parte potrei cambiarvi lo sfondo e non vedrete neanche quello come potete vedere molto pulito estremamente pulito con la possibilità di abbassare la tendina con un semplice swipe verso il basso mentre per far vedere la dock potremmo utilizzare uno dei tasti rapidi mostra nascondi dock come potete vedere io in questo momento ho attivato la dock per raggiungere questi tasti come è possibile fare è semplicissimo utilizziamo azioni del lancer e troviamo tutta questa serie di azioni di scorciatoie più che di azioni che ci permettono di effettuare delle operazioni molto velocemente possiamo aprire le app recenti espandere impostazioni rapide espandere la barra delle notifiche mostrare nascondere la barra delle notifiche mostrare le anteprime l'app drawer eccetera 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 molto utile qua ve ne ho messe già tre intanto ridimensiono questo widget come potete vedere molto semplicemente abbiamo la mostra anteprima delle pagine il multitasking praticamente e mostre nascondi dock tutto molto veloce abbiamo tantissime altre opzioni di nuova nuova che tra l'altro per essere in beta vi dico già da subito almeno su questo nexus 5 è estremamente fluido non sembra neanche di essere di fronte una beta probabilmente vorranno aggiungere qualche opzione aggiuntiva nella versione finale abbiamo poi le applicazioni 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 che non è altro aggiungere app alla home come potete vedere aggiungiamo per esempio earth e ci viene visualizzato questo è soltanto una scorciatoia in più andiamo ora ad aprire scorciatoie vera e propria scorciatoia che ci consente di avere sia delle cose di nuova tipo delle cose proprietarie di nuova sia delle per esempio la fotocamera di whatsapp ci permette di andare direttamente alla fotocamera di whatsapp è un po come un widget anche se sono scorciatoie a vere e proprie app o a veri contatti ora andiamo sui widget veri e propri widget piuttosto classici qua come potete vedere possiamo vederne 3x3 4x3 tutti i widget che noi vogliamo proviamo a mettere per esempio sound search 4x1 dopo che avrai creato il widget nuova lanser potrà accedere a tutti i dati relativi questo perché questo perché nuova 3 si basa sul fatto che un tipo windows phone propone dei widget che si aggiornano dinamicamente naturalmente dipende dal tipo di widget in questo caso questo non è il widget più adatto se per esempio noi vogliamo usare calendar la calendar si aggiornerà dinamicamente inoltre nuova ci permette anche di di ridimensionare come vogliamo in teoria questo è un widget solo 4x1 ma come potete vedere possiamo addirittura metterlo o un 2x1 praticamente ridimensiona disabilita riempimento o rimuovi del tutto andiamo ora a scoprire gli sfondi i sfondi che possono essere sfondi di applicazioni sfondi normali e sfondi animati possiamo inoltre gestire più temi non ora questi sono tutti i temi di nuova che si porta dietro anche dalle altre versioni questa nuova versione di nuova è estremamente utile anche per il fatto che installandola abbiamo potuto importare buona parte delle nostre scorciatoie già presenti e cartelle anche widget non vi nascondo il fatto che alcuni widget non erano da riconfigurare comunque anche alcune cartelle non sono state pienamente configurate però già la doc la doc quella ce l'ha mantenuta perfettamente con la nostra cartella google il nostro centro dei messaggi e i browser se andiamo nel vero menu di nuova scopriremo come le opzioni sono molteplici come potete vedere ci sono delle opzioni bloccate perché queste sono solo dedicate a nova prime nova prime soprattutto per la gestione dei gesti presenta dei blocchi come potete vedere il pinch in, il pinch out gli swipe eccetera ci consentirebbero di aprire direttamente dell'applicazione e di fare alcune operazioni cose bloccate dal dalla vendita proprio del pacchetto prime naturalmente il mio consiglio è sempre quello di provare la versione normale e poi acquistare nel caso doveste essere soddisfatti la versione prime che merita costa più o meno sui tre euro mi sembra allora desktop ci permette una gestione del desktop tantissime opzioni griglia desktop larghezza delle immagini altezza la barra di ricerca persistente o meno in che stile mette la stile onicom, ice cream, kitkat o nessuno noi per esempio proviamo a mettere la onicom schermata della home ci consente la gestione che vedevamo anche in precedenza come potete vedere lui ci ha adesso inserito questo tipo di schermata sinceramente quella di onicom è tra le mie preferite per la gestione di google torniamo nelle menu impostazioni troviamo anche la gestione del drawer ft del drawer all'infinito griglia dell'app drawer possiamo mettere in orizzontale, in verticale scorrere infinito o meno veloce numero di righe, di colonne anche qua tantissime opzioni gli effetti gli effetti forse sono un po' pochini abbiamo il cubo, il pile di carte o nessuno lo sfondo noi abbiamo messo trasparenza se no possiamo mettere trasparenza un grado di trasparenza diverso un selettore del colore o anche crearci noi un colore specifico abbiamo lo stile del drawer come ho detto elenco, orizzontale, verticale stile scheda barra piccola, classico o color block azioni minuscolo all'infinito etichette icone, ombre etichette veramente ne abbiamo di tutti i tipi mettiamo per esempio anche etichette dock vi ho saltato anche qua la dock pur essendo un elemento quasi statico abbiamo tantissime opzioni le pagine della dock possiamo anche mettere più pagine della dock per esempio io ne metto tre qua vi faccio subito vedere che la dock è gestibile in tre pagine una a sinistra, una a destra e una a centrale cosa che è comodissima perché è praticamente possibile gestire tutto tramite dock tutto tramite dock in modo da avere un una pulizia generale di android ancora maggiore praticamente usare lo schermo solo come schermo solo per i widget mettiamo tutto qua sotto anche i widget questo è un vero e proprio scorciatoia ma anche i widget a pulsante possono essere inseriti in questa specifica dock ok questo lo eliminiamo un attimo dalle schermate vediamo cos'altro possiamo mettere questo lo mettiamo su e questo vediamo se ce lo fa mettere qua dubito dubito ci fa mettere anche il widget come potete vedere e anche la possibilità di nascondere proviamo a mettere anche il mostra nascondi barra delle notifiche espandi barra delle notifiche espandi apparecenti facciamo predefinita proviamo a mettere il cerca proviamo a metterlo qua sotto come potete vedere ce lo fa mettere questo lo chiudiamo questo lo chiudiamo e questo lo mettiamo così è estremamente pulito in questo caso il nostro telefono questo tutto grazie a a Nova Lancer cartelle possiamo anche impostare un po' meno opzioni per il tipo di cartella la visione della cartella la griglia pila ventola sfondo della cartella un cerchio colore trasparenza colore etichetta ombra etichetta aspetto anche qua veramente tantissimo da analizzare velocità di animazione tipo di animazione per esempio io ho inserito lo scivolo se apriamo per esempio facebook anzi apriamone un'altra apriamo il drawer apriamo come potete vedere ha fatto l'effetto scivolo che è questa comparsa da destra a sinistra effetto che in android nativamente non esiste torniamo qua caratteri icone velocità di scorrimento animazione app visualizza barra notifica si o no nuove app aggiungi collegamenti o non aggiungere collegamenti come aggiungerle guardiamo per update scegli l'anser predefinito avanzate desktop aggressivo resistenza caching precariamente per ridurre i ricaricamenti per la mantieni memoria l'anser per android 2.x queste sono cose più avanzate che all'inizio magari non ci farete neanche caso e mai forse ne farete utilizzo comunque che dire nuova lanser estremamente soddisfatto almeno dal mio punto di vista di questa di questa di questa nuova versione estremamente fluida pur essendo in beta funziona benissimo ci fa godere appieno del display senza toglierci niente quindi ottimo lavoro consiglio a tutti almeno di provarla intanto un lanser in più un lanser in meno non provoca nessun danno sul vostro smartphone un saluto da Alessandro per Nexus Lab per l'infermire per l'infermire Grazie a tutti